E' partita la finale di la categoria esordientico, Stiffel, Fabri, Sieti, Agassi, Comunale, Zonfini, Perlini e Montagnier. Quindi, prima posizione, After School con 213, 213 Giuseppe, Comunale, seconda posizione, Tiffel del Adagio e su Tirol. Vediamo che si trova a prendere Comunale, Comunale tiene sull'ultima linea, Tiffel, il segno è pronto, si avvicina, si avvicina, ma la vittoria dell'After School.